Siamo qui, ancora una volta in Liguria, abbiamo lasciato la scorso anno le europee ma continuiamo con le regionali. Abbiamo bisogno di un asse molto forte tra i consiglieri, gli assessori della prossima giunta Toti e naturalmente l'Europa. Partiamo dalle spiagge, siamo proprio qui in spiaggia dove nel dicembre 2015 dovranno andare evidenza pubblica perché il governo, e quindi anche in questo caso il governo Burlando, non si è svegliato affinché le spiagge possano rimanere ai loro proprietari, naturalmente coloro che le gestiscono bene. Altro tema fondamentale è l'agroalimentare, quindi tutto l'ambito dal pesto, dalla focaccia di Recco, questi sono alcuni dei temi chiave che bisogna difendere in Europa con l'aiuto naturalmente di Regione Liguria. Ultimissimi i fondi europei, i soldi ci sono, ci sono anche per i giovani e per la disoccupazione, bisogna assolutamente chiederli, gestirli e spenderli, non come l'alluvione.